Per il Pescara Livorno, primo esame in trasferta del nuovo anno. Pesante la senza causa squalifica di Capitana Brugman. Al suo posto gioca Canutè, in compenso recupera Memushai. Conferma per Melegoni, mentre Macin partirà dalla panchina. Tornano Balzano e Antonucci. Ecco dunque il probabile undici. Fiorillo tre pali, Balzano, Gravion, Scogliamiglio e Delgrosso in difesa. Memushai, Canutè, Melegoni a centrocampo. Davanti Marras e Antonucci a supporto di Mancuso. Dopo l'Espouane, l'anticipo del Crotone a Foggia. Livorno di nuovo ultimo in classifica col Padova. Ma capace, prima della sosta, di inanellare cinque risultati utili consecutivi. Due vittorie e tre pareggi. La svolta con Breda subentrato nel corso del girone di andata a Cristiano Lucarelli. Così l'ex Beppi Pillon. Sarà una partita molto difficile. Io conosco l'ambiente, ci sono stati lì. Sì, che so che in questo momento qui il pubblico si stringe attorno alla squadra. Sarà tosta. Hanno dei giocatori molto di esperienza. Una squadra molto esperta nella categoria. Buon giocatore, secondo me, che fa la differenza. Che è Diamanti. Nel Livorno out, Dainelli e Rocca. E' escluso Maicon. Non convocati Albertazzi e Iappichino, sicuri partenti. 3-4-1-2 il sistema di gioco. Mazzoni, tre pali. Gonnelli, Bogdan e Gasbarro, trio di centrali di difesa. Valiani e Porcino sulle fasce. Lex, Luci e Agazzi nel cuore del reparto nevralgico. Tra le linee Diamanti, alle spalle del tandem d'attacco, Giannetti Rajcivic. Compito principale, dunque, schermare Diamanti. A Uomo è difficile andarci perché non ti dà riferimento. Cioè, va per tutto il campo, si sposta a destra e a sinistra. Non è che tu puoi scombusolare tutta la squadra. Quindi di squadra. Sì, cercando, quando entra nella sua zona, la palla, essere molto bravi e attenti in quelle situazioni. Sapendo che lui, al limite d'aria, ha un buon tiro. Il piede sinistro, cercare di coprirlo bene. Insomma, su questo ne abbiamo parlato. Abbiamo preparato un po' anche queste situazioni qui. Diciamo, linee strette, insomma, squadra un po'. Linee anche un po' più alte, la difesa. Sì, cerchiamo di stare un po' più alti, sicuramente, perché più alti stiamo, meglio. Il Livorno è stato rigenerato da Breda, no? Ha fatto il doppio dei punti rispetto al suo predecessore in meno partite. Sì. No, no, ha dato un'impronta precisa alla squadra e soprattutto una squadra che gioca più a ritmi più alti rispetto al precedente momento. Questo sì. Cinque ex, da una parte Luci, dall'altra Fiorillo, Bruno, Aldegani e Pilon, che ha guidato il Livorno nella stagione 2010-2011. Serie B, ottimo girone di andata, quindi cinque sconfitte consecutive. Ed è sonero. 26esima giornata febbraio 2011, panchina affidata a Novellino, che tuttavia non riuscirà a centrare i play-off. Roberto Breda, bestia nera del Pescara. Ben cinque successi in sei sfide. Alla guida di Regina Latina, Ternana e Perugia, il 26 gennaio dello scorso anno. 2-0 all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Nelle immagini l'ultima sfida al Picchi. primo turno del campionato 2015-2016. Pescara, a dir poco, rimaneggiato, subito espulso Fiorillo, fallo su Fedato, lanciato a rete. Aresti rimpiazza Vukusic. Tutto facile per il Livorno di Cristian Panucci. 4-0, doppietta di vantaggiato, rete di Ceccherini e dello stesso Fedato. Ma al termine di quella stagione fu retrocessione in C per i Toscani e Serie A dopo gli spareggi per i Biancazzurri di Massimo Oddo. Grazie a tutti.